Buongiorno a tutti, benvenuti in BIT anche da Parallelo 45, siamo qui anche quest'anno come visitatori, puramente come visitatori in questo appuntamento fondamentale per il turismo, sappiamo tutti che storicamente rappresenta l'inizio della stagione estiva, quindi da oggi praticamente si comincia a fare assolutamente sul serio, siamo volutamente nell'area Italia che è quella che ci vede protagonisti come prodotto e nello specifico ci troviamo in Puglia, in Puglia visto che siamo appena tornati dalla Puglia, abbiamo appena analizzato un po' di cosine, abbiamo la conferma che anche quest'anno la Puglia sarà protagonista dell'estate del 2017, quindi perché non partire da qui e da tutto il resto che comunque in quest'area Italia ci possiamo andare a visitare, a trovare e a scoprire.